o si cerca anche di indirizzarli in questo senso? Sei stata sempre chiarissima, senti, uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni sono tutti quei fornitori che hanno aggiunto la digitura Wedding Planner ai loro servizi. Fioristi è la cosa più semplice e io ci sto lavorando con uno di loro dove c'è fiori, allestimenti, bomboniere e partecipazione Wedding Planner e tu non sai più a cosa chiedegli. Allora, faccio un passetto indietro a quello che dicevamo prima quando vi affidate a un fornitore, un professionista deve essere professionista nel vero senso della parola, quindi del suo settore cioè anch'io sono brava a cucinare le torte però non è che il giorno del matrimonio faccio la torta del matrimonio tanto per rendere l'idea pur essendo brava però ecco, giusto per buttarla così sul ridere ma è un po' quello come per esempio e questo purtroppo, su quello dei fioristi il problema è anche un po' dovuto al fatto che proprio se diceva prima ci sono delle trasmissioni TV dove fanno vedere che dei Wedding Planner mettono a posto i fiori, ma mettere a posto sai questo è anche un po' il nostro compito perché dobbiamo supervisionare, coordinare, dobbiamo saperci mettere le mani come dico io quindi il fiocchetto lo dobbiamo saper fare anche se non facciamo fiocchetti di mestiere ma comunque dobbiamo saper intervenire però fare un bouquet ci vogliono ore di lavoro, conoscenza anche dei fiori ci vuole, io ho molto rispetto delle professionalità altrui per cui non mi metto a fare le torte non mi metto a fare quel giorno tutti gli allestimenti floreali ma non soltanto perché ovviamente non ho la preparazione più corretta per farlo ma non avrei neanche il tempo per poterlo fare, mi domando il viceversa come fa una fiorista che deve impegnare tanto tempo per fare un bouquet per allestire il centro tavola piuttosto che la cerimonia a fare anche il coordinamento o la planner della giornata? Allora, in realtà da quello che ho visto io si spacciano per Wedding Planner quando portano il bouquet alla sposa l'aspettano per sistemarle il vestito controllano che stia entrando salvo poi piazzarsi in mezzo in tutte le foto per la gioia dei fotografi sì sì, no, perché è vero cioè un'altra delle cose che Wedding Planner, Wedding Coordinator sappiamo fare è stare al nostro posto cioè non siamo noi le protagoniste della festa noi siamo in quello che è il backstage ci siamo sempre, siamo presenti costantemente ma con discrezione e la discrezione non è soltanto nel non apparire continuamente come se fossimo noi appunto le protagoniste ma è anche nel saper coordinarci con i vari fornitori per esempio con un fotografo quando una sposa arriva fuori dalla chiesa noi sappiamo molto bene come gestirla la situazione per cui sappiamo anche i tempi l'apertura della porta dove metterci anche dove posizionarci proprio per sistemarle il velo per fare in modo che non siamo noi ad essere fotografate ma anzi meglio se noi non ci siamo nella fotografia quindi esattamente il contrario quello che viene fatto a scapito degli sposi ovviamente perché poi se ne accorgono appunto dopo quando vedono le foto è sempre quello che dicevo il ma ah è vero ha detto che l'avrebbe fatto lei ma e il ma è troppo tardi sì e il ma è troppo tardi ma poi soprattutto ecco mi domando il perché spacciarsi per qualcosa che non si è però ti dico anche un'altra cosa Claudia se ci tengono tanto tutti a dire che sono delle wedding planner vuol dire che è una cosa che è ambita quindi quindi benvenga il fatto che uno possa volerlo fare il mio invito è fatelo seriamente nel senso se no anche io io come Claudia come le colleghe diventiamo fioristi diventiamo pasticceri non è così cioè non è serio ecco tante strutture tante location mettono a disposizione una wedding planner sì perché non è equiparabile al lavoro di una wedding planner reale mi viene da dire allora come dicevamo poco fa allora wedding planner è colei che si specializza in quello che è l'organizzazione dell'evento matrimonio che poi può essere declinato anche in servizi diversi per cui ci possono essere spose che hanno l'esigenza di volere dall'inizio alla fine il supporto di questa professionista o del professionista per cui li seguirà dal giorno che hanno deciso di sposarsi fino al termine delle nozze oppure come si diceva prima ci sono degli sposi che preferiscono invece organizzarsi da soli e tutto quanto per cui scelta dei fornitori tutto quanto però arrivando vicino alle nozze si accorgono anche che comunque hanno bisogno di un supporto e soprattutto quel giorno devono fare gli sposi non possono fare anche il resto per cui ecco che subentra la wedding coordinator che è un servizio che viene dato dalla wedding planner si parla sempre di una professione ovviamente non di un'improvvisazione quando succede che è la location a dare questo tipo di servizio si riferisce alla location quindi mentre la wedding coordinator intesa come servizio di una wedding planner si può occupare della giornata dall'inizio alla fine quindi dal matrimonio in chiesa da tutto quello che è anche il prima della cerimonia fino al termine quando si riferisce alla villa la location è quella figura sempre professionista una wedding planner che va a coordinare a supervisionare la regia dell'evento tutto quello che però rimane all'interno della location quindi dall'allestimento da quello che è il coordinamento dei fornitori e anche e soprattutto il discorso del coordinamento tra cucina e fornitori tempi per quanto riguarda il discorso dell'arrivo degli sposi di quando vanno a tavola di quando c'è la torta il lancio dei palloncini l'inizio della musica il primo ballo il ballo col papà il lancio della giaretiera ecco sono tutte queste cose che vengono gestite diciamo come regia dell'evento in supporto agli sposi da questa wedding chiamiamola coordinator specifica della location sempre più chiara sempre più cristallina spero di avere dato più risposte possibile bravissima posso anche non parlare più tanto no no al contrario anzi è piacevole trovare qualcuno che riesca a spiegare così bene ed è il motivo per cui ti ho voluto nel mio podcast grazie io ci sono onorata quando poi diventerò milionaria qua dovrò regalare fare regali a tutti va bene allora torniamo a serie wedding designer chi sono? allora le wedding designer anche qua la wedding planner può essere anche wedding designer e viceversa ma sono in questo caso veramente due figure professionali che possono anche vivere separatamente per cui diciamo lo dice la parola no planner è l'organizzatrice l'organizzatore designer è colui con lei che si occupa di quello che è la parte artistica quindi tutto quello che è un discorso di immagine coordinata allestimenti e quindi che va a dare un'impronta stilistica a quello che è il matrimonio la wedding designer avrà anche lei bisogno ovviamente di professionisti come il fiorista perché non è il fiorista la wedding designer ma in questo caso ovviamente è quella che fa il progetto proprio il progetto stilistico e che ne cura tutta l'immagine coordinata quindi dalla parte grafica quindi dalle partecipazioni a quello che può essere il tablone mariage ha proprio un progetto che ovviamente rende il matrimonio davvero unico bravissima niente da da obiettare anzi l'hai spiegato molto bene e volevo chiarire questa cosa se la wedding planner vi stampa i libretti messa perché all'ultimo siete rimasti senza è successo qualcosa è una cortesia che si fa non è un lavoro anzi è il risolvere i problemi perché l'altra cosa su cui vorrei mettere l'accento è che la wedding planner risolve i problemi e non li crea e sì è proprio questo che deve fare quanti ne hai risolti e parecchi ne parlavo proprio giusto l'altro giorno con alcune coppie quando poi sono passati li racconti con il sorriso e ci facciamo pure quattro risate durante un po' meno ecco la wedding planner si deve risolvere problemi proprio perché è un organizzatore di eventi e quindi come tale deve mantenere una grandissima calma perché deve proprio sempre mantenere un self control e non è un modo di dire è veramente deve essere così perché da lei dipende anche la risoluzione del problema che non è detto che per forza lo debba risolvere lei in prima persona ma perché non è detto per esempio vabbè mi è capitato di tutto potrei raccontarvi racconta pure un aneddoto per esempio da una torta dalla torta alla wedding cake che stava per arrivare e un incidente in strada si era imbaltato il furgoncino refrigerato e la torta è andata in mille pezzi anche a me è capitato ecco quindi lì cosa succede non è che la wedding planner si mette a rifare la torta però ovviamente non deve neanche fare quella che dice ah ma non sono io il pasticcere non è colpa mia no vado a dirglielo alla sposa è colpa del pasticcere cioè risolvetela no anzi quello che io ho fatto con il mio staff è stato assolutamente nemmeno far trappelare che era successa questa cosa perché il nostro dovere principale è che gli sposi quel giorno la vivano nella maniera più serena possibile per cui in maniera proprio senza pensieri cioè loro devono pensare alle emozioni quindi non vado certo a sottolineargli che è successa qualche cosa e a quel punto si trova la soluzione beh adesso non sto a spiegarvi l'aneddoto comunque l'abbiamo risolta ma ovviamente beh allora innanzitutto calmando la cucina che erano tutti in fibrillazione e mantenendo la calma trovando una scusa con la sposa per fargli allungare i tempi ho invertito la timeline ho detto no facciamo adesso i balli è bellissimo un pomeriggio stupendo c'è il sole stiamo fuori ovviamente la sposa a quel punto si fida di te e e tu in maniera molto tranquilla glielo dici le stai semplicemente riorganizzando la giornata che non andrà a inficiare sul risultato ma che lei vivrà serenamente con le sue emozioni e nel frattempo senti la pasticceria e vedi come risolverla per cui in quel caso avevamo per fortuna non eravamo tanto distanti la location non distava tanto dal pasticcere c'era una base pronta per il giorno dopo per un'altra sposa hanno ricostruito praticamente la torta come doveva essere perché sì lì sono stata abbastanza severa ho detto la voglio come doveva essere però poi abbiamo allungato semplicemente un po' il tempo ma se non ci fosse stata una figura come la mia in quel caso ovviamente sarebbe stato un po' un disastro perché c'era un po' di panico avrebbero subito avvisato gli sposi il che avrebbe rovinato guastato sicuramente la loro giornata e poi chi si sarebbe occupato di vedere come fare a ricostruire tutto a portare a riallestire insomma comunque abbiamo risolto la sposa l'ha saputo solo il giorno dopo si è fatto una grassa risata però gli ho detto adesso ridi gli ho detto se l'avessi detto ieri piangevi e questo è un aneddoto ma voglio dire possono succedere anche cose minori per carità non è che tutte le volte uno è un incidente però è capitata la stessa cosa con delle difficoltà ulteriori tremate sposi tremate no con delle difficoltà ulteriori la pasticceria non è arrivata con il frigo ha trovato le strade chiuse perché c'era stata una frana e la location era un po' in montagna non proprio montagna alta però neanche su strada ha dovuto cambiare strada perdendo tempo loro avevano calcolato tempo x per raggiungere la location e hanno impiegato molto y più x più x eh sì eravamo arrivati la torta la torta arriva distrutta sbagliano anche ingresso arrivano davanti alla sposa la sposa vede la torta rovinata ah lì proprio bruttina la cosa terribile allora prendi la sposa non ti preoccupare risolvo io lei in qualche modo si rilassa mi organizzo con cucina pasticceri facciamo questo summit in cui ci stiamo mandando tutti allegramente a quel paese dando la colpa un po' a tutti perché il rischio è quello eh sì il pasticcere alla fine torna indietro mentre chiama avvisa di preparare anche loro avevano già delle basi più o meno pronte però gli era impossibile ricostruire la torta e ce la siamo cavata con qualcosa di simile invece che a piani messa sui piani sfalsati sai quelle costruzioni non era la stessa cosa ma la sposa l'aveva vista quindi non potevo ingannarla certo a un certo punto lei nei giorni dopo mi dice ma sai che ha un sacco di belle foto che non pensavo di fare lo so perfettamente perché ho obbligato il fotografo e il musicista di tirare lungo perché avevo un sacco di tempo da dover coprire quindi abbiamo anticipato tutto e abbiamo spostato la torta sì lei aveva un cambio d'abito la mia sposa quindi glielo ho fatto fare prima abbiamo invertito un po' quello che era la scaletta nel mio caso no non ha saputo niente prima ma perché appunto non l'ha vista la torta però ecco diciamo che questo come altre cose